MTB Gran Fondo, in collaborazione con Cicli Olimpia, bikes since 1893 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Amici sportivi appassionati delle ruote grasse, un saluto da Carlo Rosa e bentrovati a questo nuovo appuntamento con MTB Gran Fondo Immagini che vi arrivano dalla Toscana, ci troviamo a Monteriggioni in provincia di Siena per raccontarvi oggi la Gran Fondo Castello di Monteriggioni Siamo nel cuore della campagna senese, situato sulla cima della collina, il borgo di Monteriggioni è circondato da una bellissima cerchia di mura circolari Perfettamente conservata, all'interno della cerchia muraria ci si trova immersi in un'atmosfera tipicamente medievale Si entra dalle due principali porte, la porta Franca o Romea e la porta Fiorentina Da visitare sicuramente la bellissima chiesetta di Santa Maria Assunta che si affaccia su piazza Roma Una piccola chiesa in stile romanico con il suo campanile a pianta quadrata Ai piedi della collina, nella frazione di Castellina Scalo, è allestita la logistica e la zona di partenza della Gran Fondo Castello di Monteriggioni Si ritirano i pacchi gara, i pettorali La gara prevede due percorsi tutti nuovi La Gran Fondo di 49 chilometri con 1300 metri di dislivello E la gara non agonistica per cicloturisti di 25 chilometri e 650 metri di dislivello I tracciati si snodano nella montagnola senese intersecando anche la via francigena Uno dei più affascinanti cammini storici che da Canterbury arriva a Roma per un totale di 1800 chilometri Sono oltre 900 i bikers che non hanno voluto mancare a questo importante appuntamento Valido come ultima prova del Challenge Coppa Toscana e anche per il circuito Deltos Cup Lo speaker Tiziano De Cristoforo chiama a raccolta tutti i bikers Ma do subito la parola alla griglia di partenza perché il presidente del comitato organizzatore Giorgio Mazzi È in compagnia del sindaco di Monteriggioni per dare il benvenuto ai bikers Sindaco del comune di Monteriggioni Andrea Frosini A quale porgo a nome di tutto il Team Bike Pionieri grossissimi ringraziamenti per l'aiuto e il supporto che ci hanno dato Gli volevo chiedere che cosa ne pensava di questo colpo d'occhio e di questa manifestazione in questo momento Il colpo d'occhio è fantastico Bisogna essere qua per rendersi conto quante persone ci sono Tutti appassionati di questa gara veramente entusiasmante È veramente una soddisfazione per me e per l'amministrazione essere qui oggi a dare il via alla 31esima edizione E naturalmente anch'io ringrazio di cuore voi in primo luogo te Giorgio e tutti i tuoi collaboratori Per l'impegno che ogni anno mettete nell'organizzare un evento che ormai è entrato nella tradizione del nostro comune Bene e noi riproporremo sempre grazie all'amministrazione L'anno prossimo il 2024 l'abbiamo già messo in calendario Il 2017 di marzo quindi ci si può contare siamo tranquilli Siamo tranquilli e noi siamo veramente pronti a darvi tutto il supporto necessario Perché lo dico pubblicamente è davvero un grande orgoglio essere al fianco di un gruppo di persone Che amano il territorio e si impegnano a promuoverlo Grazie davvero di cuore Sono oltre 900 i bikers che non hanno voluto mancare a questo importante appuntamento In griglia intanto per la gara femminile Deborah Piana del team Cingolani Che dovrà vedersela oggi con la campionessa italiana Marathon Sandra Mairofer del team Grand Bike Tutto pronto per lo start In prima griglia abbiamo visto Lorenzo Pierpaoli del team Cingolani Che deve vedersela oggi con Alessio Trabalza del biking cycling team Samuele Giuserri PS cycling team Filippo Bertone Marchisi Obici alle ore 10 In punto scatta lo start della Gran Fondo Castello di Monte Rigioni Si parte per un percorso di 49 chilometri e 1300 metri di dislivello Un percorso come dicevo tutto nuovo Si parte a velocità controllata nei primi chilometri su asfalto verso Abbadia Isola Località di Monte Rigioni famosa per la necropoli etrusca del Casone E naturalmente per l'antica Abazia risalente all'anno 1000 Davanti intanto Claudio Longhitano Francesco Acco ciclissimo bike team Notiamo anche la maglia di Alessio Trabalza, Franco Casella Tutti i migliori già in testa La gara è organizzata come sempre in modo impeccabile dal bike team pionieri Con il suo presidente Giorgio Mazzi Con il patrocinio del comune di Monte Rigioni La provincia di Siena, la federazione ciclistica italiana La regia stacca con le immagini che ci arrivano da Moto 1 davanti Vediamo Francesco Acco e Claudio Longhitano del ciclissimo bike team E dopo il tratto asfaltato inizia lo sterrato E subito in salita, una lunga salita di circa 5 chilometri Tutta su strada bianca con fondo ghiaioso La salita detta del Giubileo Perché porta proprio a casa Giubileo Dopo 5 chilometri E lungo questa ascesa sicuramente ci sarà una prima selezione Nelle nostre immagini intanto siamo ancora all'inizio della salita Con i biker ancora tutti compatti Dopo casa Giubileo inizierà il nuovo tratto Con una serie di divertenti single track Anche piuttosto impegnativi Caratterizzati dall'alternanza di fondo Compatto e sassi tipico della montagnola senese E discesa fino al ventesimo chilometro di gara E siamo in discesa con le nostre immagini E selezione è stata fatta Davanti sono in due Si tratta di Filippo Bertone del team Marchisio Bici Tallonato da Alessio Trabalza del biking racing team Più indietro tutto il gruppo degli inseguitori Con Franco Casella, Marco Galeotti, Samuele Giuseri, Ramon Vantaggiato e chiudono Matteo Spinetti e Francesco Acco del ciclissimo bike team Tutto solo Lorenzo Guidi del Scott Pasquini Stella Azzurra Siamo sempre nei bellissimi trail della montagnola senese Un vero bike park naturale Andiamo subito a recuperare nuovamente la testa della corsa Dove nulla è cambiato Sono sempre in due Filippo Bertone e Alessio Trabalza Bellissimi questi passaggi tra gli ulivi E aumenta leggermente il ritardo del gruppo inseguitore Aperto ora dal Veneto del Today Factory Ramon Vantaggiato con Marco Galeotti Francesco Acco Una gara molto molto veloce fino a questo punto D'altronde il terreno è asciutto E l'unico inconveniente è il polverone che si alza al passaggio delle mountain bike In ottava posizione intanto transita Lorenzo Guidi del Scott Pasquini Stella Azzurra Si alza sui pedali Continuano i passaggi e a chiudere la top ten in questo punto è Matteo Spinetti Del ciclissimo bike team Più indietro ad aprire questo trenino di biker è Luca Accordi del Tutto Bike Team Vediamo anche Lorenzo Pierpaoli del Team Cingolani Ancora passaggi con Claudio Longhitano ciclissimo bike team Seguito da Simone Tassini e Patrizio Paperini Con la Gran Fondo Castello di Monteriggioni si chiude anche il circuito Coppa Toscana Partito il 26 marzo scorso con la rampichiana Otto tappe con le più belle e spettacolari Gran Fondo e Marathon della regione Ed è stato anche un grandissimo successo per quanto riguarda il numero di partecipanti Il circuito che ricordo avete potuto seguire qui sui canali di MTB Gran Fondo E proprio sul nostro sito mtbgranfondo.it potete andare a rivedervi tutte le prove del challenge E la regia stacca con le immagini che ci arrivano dal drone Guardate che spettacolo questa inquadratura con i biker che stanno salendo Dopo circa 25 km di gara si chiude il primo giro sulla montagnetta senese E si ripercorre lo stesso tracciato con il Gran Premio della montagna Nuovamente al trentesimo chilometro di gara e la discesa finale poi che porta verso Monteriggioni Intanto attenzione al comando per quanto riguarda la gara femminile Si è portata Sandra Mairofer la campionessa italiana Marathon del Grand Bike Veloclub Torino In seguita ora da Deborah Piana la vicentina del team Cingolani E in terza posizione più staccata Giorgia Giannotti del team Valerbike Ma portiamoci al trentacinquesimo chilometro di gara in discesa dal GPM E attenzione perché Filippo Bertone è da solo al comando nella discesa Ha guadagnato ben trenta secondi su Alessio Trabalza Eccolo il biker del biking racing team in seconda posizione Ad inseguire Franco Casella, Samuele Giuseri e quinto posto per Ramon Vantaggiato Taddei Factory Eccoli nuovamente i tre inseguitori che cercano di ricucire il distacco con la testa della corsa Mentre in sesta posizione c'è Francesco Acco Biker del ciclissimo bike team Siamo nella zona di assistenza Si prendono le borracce Fa molto caldo anche oggi Una giornata più estiva che autunnale anche a Montedigioni E seguiamo l'azione anche di Marco Galeotti Atleta del Tutto Bike Team Attenzione, qualche problema per lui Alla ruota posteriore forata Si ferma nel punto di assistenza Si cambia in fretta la ruota e cerca di ripartire il prima possibile E però viene superato da questo gruppo di inseguitori Aperto abbiamo visto da Lorenzo Pierpaoli del team Cingolani E siamo al termine del secondo giro Quando mancano pochi chilometri al traguardo e al comando C'è sempre da solo Filippo Bertone Del team Marchisio Bici Si guarda le spalle Non vede nessuno dietro E devono passare oltre 60 secondi Per vedere Alessio Trabalza in seconda posizione Ci sembra abbastanza affaticato In questo punto l'atleta del Biking Racing Team E questo è il gruppo degli inseguitori Ora aperto da Franco Casella Con dietro Samuele Giuseri E Ramon vantaggiato In quinta posizione Ma trasferiamoci subito a Monteriggioni Dove all'interno della cerchia muraria Tutto è pronto per accogliere il vincitore Di questa edizione della Gran Fondo Castello di Monteriggioni Ultima prova del circuito Coppa Toscana Guardate che spettacolo queste immagini dall'alto Ora ultimo strappo in salita Per entrare dentro le mura E il primo ad entrare proprio lui Si tratta di Filippo Bertone Braccio al cielo per il biker del team Marchisio Bici Che chiude vittorioso la sua Gran Fondo Castello di Monteriggioni Con il tempo di un'ora 57 minuti e 57 secondi E in seconda posizione lo vediamo ora dall'alto E si presenta Alessio Trabalza Della SD Biking Racing Team Ottima prova anche per lui Che chiude con un minuto e 37 secondi di ritardo dal vincitore Ci sembra molto affaticato Alessio Si congratula con il vincitore Ottima prova comunque anche per Alessio Trabalza Che sale sul secondo gradino del podio E torniamo con le immagini dall'alto E si sprinta per la terza posizione Ad avere la meglio è Samuele Giuselli del PS Cycling Team Su Franco Casella Della SD Pro Abruzzo Mountain Bike Un arrivo veramente ricco di emozioni Quello che ci sta offrendo la Gran Fondo Castello di Monteriggioni Mentre sta arrivando anche il Veneto del Taddei Factory Ramon vantaggiato Eccolo tagliare il traguardo proprio in questo istante E si aggiudica la quinta posizione Arrivo anche per Francesco Acco Ciclissimo Bike Team Sesta posizione per lui Al settimo posto Taglia il traguardo Luca Celli Dell'Avis Prato Vecchio Ottavo è Lorenzo Pierpaoli Del Team Cingolani Nonno Alberto Ghidi Del Team Space Bike E chiude la Top Ten Matteo Spinetti Del Ciclissimo Bike Team Cerimonia Floreale Con al terzo posto Samuele Giuselli Al secondo Alessio Trabalza E il vincitore di oggi Filippo Bertone Del Team Marchisio Bici Ma torniamo subito sotto l'arco Del traguardo Perché c'è ancora da commentare L'epilogo per quanto riguarda La gara femminile Abbiamo lasciato in testa tutta sola La campionessa italiana Marathon Sandra Mairofer Vediamo se sarà la prima a tagliare il traguardo E' tanto inquadratura per i tantissimi amatori Che non hanno voluto mancare A questo importante appuntamento con la mountain bike A Monteriggioni Ricordo siamo in provincia di Siena E attenzione Eccola Spuntare dalla porta del castello di Monteriggioni Sandra Mairofer Del Team Grand Bike Veloclub Torino Alza le braccia al cielo La campionessa italiana Marathon Che si aggiudica La Gran Fondo Castello di Monteriggioni Con il tempo di Due ore 20 minuti 57 secondi E in seconda posizione Eccola spuntare Si tratta di Deborah Piana La vicentina Del Team Cingolani Che sale così Sul secondo gradino del podio Deborah accusa un ritardo Di quasi 5 minuti Dalla vincitrice Ecco la stretta di mano tra le due atlete Ed ora per tutti Il meritato ristoro finale E arrivo anche per Giorgia Giannotti Del Team Valerbike Che sale sul terzo gradino del podio Lei specialista del cross country Abbiamo visto se la cava anche Molto molto bene Sulle lunghe distanze Mandiamo subito Alla cerimonia dei fiori Per quanto riguarda La categoria femminile Con al terzo posto Giorgia Giannotti Del Team Valerbike Al secondo Deborah Piana Del Team Cingolani E la vincitrice di oggi La campionessa Italiana Marathon Sandra Mairoffer Del Team Grand Bike Torino Si stappa lo spumante E si festeggia La Gran Fondo Castello Di Monteriggioni E dopo gli arrivi In centro A Monteriggioni All'interno del castello Si passa ora Nella frazione Di Castellina Scalo Per tutte le premiazioni Finali Un grande successo Questa edizione Della Gran Fondo Castello di Monteriggioni Che eccezionalmente È stata spostata In autunno Dalla classica data Della primavera E con un percorso Tutto nuovo Che è particolarmente Piaciuto A tutti i biker Ora però È tempo di sentire Tutti i protagonisti Di questa edizione Della Gran Fondo Castello di Monteriggioni Anche oggi Ho forse Ho provato a portare A termine Una Gran Fondo È andata bene Nonostante Aver avuto dei problemi Al telescopico Che mi hanno Fatta fermare Comunque È sempre andata a tutta Anche se Non è proprio Quello che Mi aspettavo Ma insomma Va bene È un appuntamento Questo di ogni anno Un po' un classico È la terza volta che vengo Il percorso è stato rivisto Ma veramente Molto divertenti Dalle salite Dove c'era da spingere Un po' anche tutto Nel falso piano Nel sottobosco E in discesa Si poteva divertire Un bel po' Sì è stata Una stagione lunga È partita a fine gennaio E appunto Questo era L'ultimo appuntamento E ho corso Praticamente tutte le domeniche Sia in Italia Che all'estero Quindi è normale Che a fine stagione Insomma La stanchezza Un po' Si faccia sentire Siamo in compagnia Di Sandra Mairofer Già presente Qui a Monteriggioni Però purtroppo Non fortunata In quell'occasione Oggi chiaramente Monteriggioni Ti ha serriso Una buona stagione La tua Una stagione Che ti vede anche Vestire la maglia Di campionese italiana Marathon Parlaci un po' Della tua gara di oggi Che ti vede comunque In prima posizione Sì Non sapevo bene In che condizioni Arrivo oggi Alla gara All'ultima gara Che da un po' Che ho staccato un po' Quei allenamenti seri Diciamo Però mi sono divertita Tantissimo Stavo tanto bene Mi sono divertita Fino alla fine Della gara Quindi sono molto Molto contenta Di aver vinto Oggi qua Un risultato Che ti vede Chiaramente contenta L'hai detto Chi ti senti di ringraziare Per questa vittoria Ringrazio il mio coach Roberto Crisi Che mi allena Sempre al meglio E mi sta sempre dietro A tutte Tutte le avventure Che facciamo E abbiamo fatto Tutta la gara Io Franco E Ramon Poi A un certo punto Siamo rimasti Io e Franco Verso la fine Ho avuto una caduta E ho dato tutto Per rientrare Su Franco Dando il massimo Ad occhi chiusi E ho fatto la volata Per la terza posizione Oggi Sapevo che comunque Si era un percorso Abbastanza adatto a me E dunque ho provato Subito a stare davanti Fin dall'inizio A fare un po' la differenza In discesa Che sapevo Di poter provare qualcosa Però niente Poi da metà gara in poi Ho trovato Un avversario più forte di me E ho dovuto comunque Arrendermi Alla seconda posizione Che comunque È un ottimo risultato Abbiamo fatto la prima salita Molto forte Poi in discesa Insieme ad Alessio Siamo riusciti Ad avvantaggiarci Un pelino E siamo andati Regolari Fino alla seconda salita Lunga E poi ho cercato Di forzare un pelo Il ritmo E sono riuscito Ad allungare E poi ho cercato Di spingere fino all'ultimo Di gestire in discesa E tutto Sì sono molto soddisfatto È la prima volta Che partecipo a questa gara È un percorso molto bello Mi si addiceva molto E che dire Non si poteva finire Nel miglior modo possibile Siamo in compagnia Di Giorgio Mazzi Presidente del Team by Pionieri Come ogni anno Un grande successo Una grande partecipazione Della tua Gran Fondo Della Gran Fondo Da voi organizzata La Gran Fondo Castello di Monterigioni Quest'oggi Siamo a ottobre Solitamente si corre a marzo Però direi Un successo organizzativo Una grande partecipazione Giorgio Sì dai Ora ci si rilassa Un attimino Si comincia a rilassarci Sì è andato Tutto bene Siamo contenti Perché siamo riusciti A rimettere in piedi Un evento Che a marzo Sinceramente Quando l'abbiamo annullato Non ci speravo Poi invece Grazie anche Al supporto Del comune Siamo riusciti A rimettere Sù la 31esima edizione E abbiamo avuto Anche un discreto Numero di iscritti Siamo arrivati A 900 Quindi direi Che per il periodo Sia per il fatto Che abbiamo rimandato La data di marzo Ma anche Visto insomma L'andazzo Che c'è in giro Insomma siamo molto Soddisfatti Quindi un po' In controtendenza Perché comunque I risultati ci sono stati Soprattutto tanta partecipazione Giorgio In questo caso Avete avuto più tempo Per preparare Quest'edizione Però si guarda Alla 32esima Che comunque sarà Alle porte con i sassi Perché marzo è vicino Mi puoi anticipare Già quello che potrebbe Essere il percorso Rimane perché comunque Il percorso è stato disegnato Nuovamente per questa edizione Oppure insomma C'è già qualcosa Che bolle in pentola Ma no Il percorso Diciamo che ci è piaciuto Ha trovato molti consensi Anche il fatto Di ripetere Due volte La stessa discesa Che era quella più tecnica Insomma quindi Sicuramente rimarremo Sul versante Val del Sano Della Montagnola Quindi il percorso Si cercheremo Di trovare Qualche tratto nuovo Ancora più divertente Però insomma A linea di massima Siamo convinti Di questo percorso Quindi sicuramente Rimarrà questo Un percorso Che è piaciuto Tantissimo E questa è anche L'ultima prova L'ultima tappa Di Coppa Toscana Per la vestizione Delle maglie di leader Però vi do Appuntamento Al 25 novembre Per il Gran Galà Di premiazione Della Coppa Toscana 2023 E da Montedigioni Provincia di Siena È tutto Per la Gran Fondo Castello di Montedigioni Un saluto Da Carlo Rosa La grande mountain bike Di MTB Gran Fondo Torna Come sempre La prossima settimana Su queste note Di Life is Life Per la Gran Fondo MTB Gran Fondo In collaborazione con Cicli Olimpia Bikes since 1893 Cicli Olimpia Ehi 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 Ehi